ciao a tutti oggi grazie ai consigli del nostro amico derek grazie derek per i tuoi consigli andiamo a preparare il rum fatto in casa senza bisogno dell'allambicco senza distillare come facciamo di solito ma andremo a distillare a solezzo ma questo lo vediamo poi più avanti perché adesso dobbiamo parlare della fermentazione cosa ci servirà tre litri di acqua un chilo di zucchero di canna più greggio che riuscite a trovare qua in indonesia in thailandia in questi paesi dove viene prodotto è facile trovarlo grezzo viene venduto così sono delle coppe che vengono messe assieme dei blocchi di zucchero perché adesso in questa maniera creiamo la melassa di zucchero di canna che poi dobbiamo andare a fermentare con dei lieviti se avete dei lieviti che avete già utilizzato per una fermentazione precedente questi sono lieviti che utilizzato sia per il vino di rambutan e poi l'ho anche utilizzati sempre uno stesso fermentatore ho messo della ginger beer quindi loro sono belli attivi ce n'è abbastanza sul fondo perché cosa succede come ci dice derek solo acqua e zucchero non ha nutrimenti per i nostri lieviti quindi se avete dei lieviti vecchi ci saranno anche dei lieviti morti che faranno da cibo per i lieviti nuovi che si svilupperanno durante la fermentazione quindi adesso mettiamo lo zucchero nell'acqua posizioniamo sul fuoco e facciamo sciogliere poi dobbiamo aspettare che raggiunga la temperatura ambiente quindi raggiunta la temperatura ambiente mettiamo nel fermentatore aspettiamo che la fermentazione abbia inizio nel frattempo controllato la densità iniziale che è 1090 il mattino seguente come potete vedere schiuma in superficie e una bolla al secondo quindi la fermentazione partita la grande dopo una settimana la fermentazione si è completata come avete notato dal grigogliatore quindi possiamo mettere il nostro vino dentro delle bottiglie di plastica perché poi queste bottiglie di plastica vanno messe nel freezer perché dobbiamo andare a congelare il nostro vino cosa molto importante anche conoscere la gradazione alcolica che adesso vi vado a calcolare se ricordate la densità iniziale era 1090 quella finale 986 la differenza 104 diviso per il coefficiente fa 13,86 quindi al momento la gradazione alcolica del nostro vino è 13 e mezzo diciamo quindi adesso va posizionato in freezer ancora una precisazione ho detto una castroneria questo non è zucchero di canna ma è zucchero di palma infatti si chiama gula mera che in indonesiano significa zucchero rosso che qui viene ottenuto dalla palma da cocco e dalla palma da zucchero quindi alla fine non sarà un vero room tanto non sarebbe stato un vero room lo stesso per i puristi però voi a casa trovate lo zucchero di canna è difficile più trovare quello di palma quindi alla fine avrete uno pseudo room fatto in casa una volta che il vostro vino si è congelato tenete conto che una bottiglia un litro ci vorrà almeno un 24 ore due giorni e mezzo quindi siete sicuri che si è congelato per bene aprite la bottiglia la mettete sotto sopra l'alcol inizierà a sciogliersi prima quindi cosa succede drena all'interno di un contenitore a vostra scelta io sto utilizzando il mio fermentatore quello che rimane nella bottiglia verso la fine che è soltanto bianco o trasparente che praticamente sarà il ghiaccio l'acqua che si è ghiacciata andiamo poi a scartarla tenete conto di fare questo passaggio almeno tre volte quindi adesso da tre litri dobbiamo almeno raccoglierne un due litri poi rimettiamo in bottiglia e di nuovo nel congelatore vi aggiorno appena ho racconto i miei due litri di vino dopo all'incirca mezz'ora tenete conto però che io qua ho 31 gradi il ghiaccio è rimasto all'interno della bottiglia il vino è sceso nel nostro fermentatore vedete il bianco qua e il ghiaccio questi sono gli eviti che si sono depositati naturalmente qua c'è ancora un po di vino quindi andiamo a muovere il ghiaccio e lui drena adesso io raccolgo i miei due litri di vino li divido sempre in tre bottiglie perché poi è più comodo far drenare l'alcol e si congela più in fretta perché c'è meno vino insieme se fate un blocco unico ci vorrà più tempo quindi travaso di un uovo nelle bottiglie questo ghiaccio lo vado a buttare nel lavandino riposiziono nel freezer e ci vediamo tra altri due giorni la seconda volta quando andrete a togliere il vostro vino dal freezer noterete che una parte di vino non se neanche congelata perché naturalmente l'alcol è molto di più mentre il nostro alcol drena il ghiaccio rimane nelle bottiglie vedete già sta iniziando a diventare bianco adesso sarà molto più veloce il procedimento perché c'è più alcol e meno acqua facciamo due conti conti un po' così alla bene meglio allora se quando ne avevamo tre litri la gradazione alcolica era del 13,86% la scorsa volta facendo una proporzione un po' così l'alcol si era concentrato al 21% se adesso ne raccogliamo soltanto un litro l'alcol nel nostro room dovrebbe essere intorno al 39,5 quindi adesso lo raccolgo lo metto di nuovo nelle bottiglie e lo posiziono di nuovo in freezer per fare la prova del 9 perché in teoria raggiunta questa gradazione alcolica non dovrebbe più congelare è un po' come quando mettete una bottiglia di vodka nel freezer che è intorno al 40% quello non si congela la vodka diventa bella fredda per poterla bere d'estate per fare i vostri cocktail ma non congela quindi se questa volta lo rimettiamo nel freezer e l'alcol non si congela più avremo raggiunto intorno al 40% di gradazione alcolica bene abbiamo ottenuto così il nostro litro di room io il ghiaccio questa volta vedete ce n'è all'incirca un litro ho deciso di tenerlo perché non è poi completamente trasparente una volta che si scioglie quindi rimane un tipo di vino che andrò a utilizzare quando cucino per sfumare la cipolla, la carne e via dicendo qui c'è l'altra bottiglia vuota adesso divido il mio room in due bottiglie così da averne mezzo litro lo riposiziono in freezer tra due giorni ci aggiorniamo si è formato ancora leggermente del ghiaccio quindi con un colino vado a eliminarlo ce ne saranno due cucchiai spettacolo bello forte grazie ancora a Derek per aver condiviso questa tecnica con noi bene se come al solito non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi qua sotto lasciatevi un mi piace guardate altri video se come Derek avete qualche idea qualche consiglio qualche proposta scrivetelo sotto nei commenti via email o su instagram scegliete voi cosa più vi aggrada volendo lo potete filtrare batuffolo di cotone noi dischetti il cotone è quello per struccarsi e via dicendo e fate passare il vostro liquore dentro un imbuto con il cotone sotto così da riuscire a filtrarlo perché sicuramente sul fondo un po' di lieviti della fermentazione ci saranno ancora non essendo una vera distillazione i residui ve li portate dietro da un lato è buono perché prendete anche ancora un po' il gusto dello zucchero dall'altro se ci sono un po' di polveri del lievito non è proprio il massimo quindi valutate voi ciao ciao bello forte quindi mi raccomando bevete con moderazione grazie grazie